Ebbene a tutti ragazzi e ragazze ben ritrovati dalla vostra Croatomist Oggi siamo qui con un video particolare perché vi riporto dopo un po' di mesi Un format che a voi è sempre piaciuto e che ho sempre portato da quando gioco su Fortnite Ebbene sì ragazzi oggi siamo però in compagnia con Giorgina E abbiamo deciso di giocare insieme le squad con riempimento ragazzi Non ve lo sto neanche a dire Ovviamente il nostro obiettivo era quello di trovare degli italiani Ci siamo riuscite infatti in questa partita abbiamo trovato due italiani Di cui uno era super simpatico che parlava tantissimo e l'altro era un po' nel suo mondo Ma sembrava che all'inizio uno dei due appunto mi abbia riconosciuta dalla voce Cosa molto possibile perché ci sta anche perché non è che sia troppo brava e esperta a camuffare la mia voce Ho anche usato un secondo account per cercare di non farmi diciamo sgamare subito Ma secondo me all'inizio lui mi ha un po' riconosciuta Ma questo sarete voi a decidere se effettivamente è così o meno Quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti Quindi ragazzi adesso andate a vedere un bellissimo gameplay divertente Quindi lasciate subito un bel pollice in su Iscrivetevi al canale e vi auguro una buona visione Pronto? Ciao Ciao Di dove sei? Ciao La Saffida Io sono di Roma La Saffida Ok Io di Savona Ah Savona Savona? Savona Vicino Firenze? No 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 Savona Ah in Liguria in Liguria La Saffida Sono molto bravo in geografia Andiamo qui a Brulle Va bene Che plale Finalmente ho trovato qualcuno che parla italiano mamma mia Però se non parli Aspetta Sto parlando Chiedigli se è in combo con Ukovo Sei Corena Bianca? Ma sei Corena Bianca? Ce lo conosci? Sono? Che cosa vuoi? No non ho idea di chi sia Ah ok Ha detto che cosa vuoi? Siccome io stavo su Discord con dei miei amici Ma siccome non posso non giocare Ho provato a fare un po' di riempimento Ah ok E per gara? E neanche la conosco Non ho idea di chi sia Ah E qua si è scamato da solo però Non la conosco E non la E per gara? C'è femminile? No no fidati Eeeh Allora Oh ma dai però Che Oh Dai No No Calma calma Aspetta arrivo arrivo Ma cosa mi chiede Dove fa scappare Da me Niente Ma distrutto Ah non può Dovete credere in me Ma come sta facendo tutti Siamo tutti morti? E tu cosa fai? Fai scappare Ma il carriano Ma non parli Stai dita per un Andiamo Buono Dai però A prenderci le schede Se ci senti Sì sì mi sento Avevi sentito No non è sicuro Sì 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 Ma sembra arrabbiato Rena bianca Che hai fatto? Spariamo Spariamo No non mi hai sparato Ma lo so Ma lo so Oh le ho preso la zanzara E' quella che diceva Della persona Dei farei impazzire A girare la testa Fu schifo Fu schifo Fu schifo Ma hai ucciso la zanzara Con la racchetta Sì Ah Adrè L'hai one shotata Oh arriva gente Aiutato Guarda uno Oh che miglia Guarda un altro Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Rena bianca Posso farvi una domanda? E' ciò Morto Morto Dai Spenda Di scoglierello Andiamo via Guardi tutti Andiamo via Vieni qua Clara ma sei fortissima Hai visto anche io? Clara Sì Ce l'hai qualcuna Su la chiave Qualcuna non c'erai chiave Io ho la chiave Io si Però mia mamma Mi ha detto che non devo dare Le chiave agli stranieri Perfetto Renna ma Perché ti chiami Perché ti chiami Rennna bianca? Quello sotto Perché ti chiami Rennna bianca? Perché Rennna bianca? Perché Rennna bianca? Perché Rennna? Perché Rennna? Perché Rennna? Perché Rennna bianca? AAAAAH È sciato Sì Minchia del peso È un calciatore Ok mi sono troppo forte Non mi rubate il loot Perché mi incazcio Ve lo dico Sì Trova Ok Stava Oh ma no Spai il neri Spai 109 Allora Allora Visto che sei di Roma C'ho una domanda Ma carbonara Come si fa? Allora Guanciale 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 Anche Morto Vabbè No 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 Morto Troppo forti Siamo next level AAAAAH Me lo stanno piazzando Sto posto de merda No scusate Non devo dire parolacce Eh che devo fare Qui ci riva sopra Mi senti mia madre dire le parolacce Mi vedeva Fortnite per quattro anni Di mortacci Lua Qui ci riva il peco Ma non scappare Ma che cazzo Ma che cazzo Morto no Vai 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 No no C'è il boss C'è il boss C'è il boss Non me ne frega AAAAAH Allora ne è scappato uno Che io ho fatto Guarda il culo Oddio ma che chi chi è quello Nella bolla È tipo mi madre Quando si incazza Che non faccio i compiti Scusala Brutale ma vero Brutale sì Brutale sì Guarda la scorsa C'è il pisellino piccolo È il pisellino piccolo Vuoi vederlo? OOOOOOO Ti mando la foto su telegram Se vuoi No 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 Sto morire Erenna bianca Anche tu vuoi la foto del pisellino? Sto morire Sto morire Ho capito Ma non te cazzo Allora se vinciamo Se vinciamo la partita La carbonara si va Col guanciale 110 110 ancora Eh c'è il guardo Ma c'è il guardo Ma c'è il guardo Ma c'è il guardo dentro Grazie grazie Vai Uco Vai Uco Vai Uco Martuno 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 Let's go E ora con la vittoria C'ho pure il regalo Dai Jasmine Vieni sotto la schifonia GG ragazzi Bravi Dai brava Comunque Jasmine Fa veramente bene I boccaciucci Eccoci qua alla fine di questo video ragazzi Io spero che vi sia piaciuto E che vi siano divertiti Come avete visto Siamo riuscite a trollare I due ragazzi In maniera abbastanza Diciamo semplice Soprattutto come avete visto Uno parlava tantissimo L'altro La rena bianca Era molto Diciamo nel suo mondo Non so per quale motivo Però insomma Comunque Abbiamo fatto una bella vittoria reale E questa cosa A noi ci piace Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate un bel pollicione in su Noi ovviamente Ci ribechiamo In un prossimo video Dalla vostra cratomist È tutto Bella a tutti ragazzi